Il maestro Peppe Vessicchio ha cambiato delle cose nell'arrangiamento Ma è una cosa così grave? No, però non è... Guarda, qui ha messo il mi bemolle, ha messo una settima, poi una nona, una tredicesima, una quinta diminuita, una diciannovesima aumentata, ha cambiato il tritono con una cadenza plagale Ma è una cosa così grave? Ma maestro, non era... Hai detto gigni? Hai detto gigni? Ho detto gigni? No, 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 è un'istituzione, lui la sua bacchetta No, no, il maestro è veramente un anatema sul maestro, ha detto che sono un dittatore Sì, ma sono un dittatore artistico No, no, Claudio No, non, 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 non Grazie a tutti.